A Prolog in Festa, ci è venuta a presentare Allora, noi quest'anno portiamo come tutti gli anni i vinci sgrassi e il rotolo di agnello al forno è ormai da tradizione, da molti anni che portiamo questo piatto, quindi cerchiamo di mantenere queste tradizioni Fate bene, io so che di che cosa parlate Certo, certamente Appuntamenti prossimi Avremo il concerto di Casa Pienne a Servigliano, al Parco della Pace Poi avremo Festa, Birre e Gourmet dal 20 al 29 luglio Ci sarà la Festa e la Pizza a Curetta e tanti altri eventi Poi ci sarà anche il concerto di Caparezza che è quest'anno Bissa Farà la seconda data che l'anno scorso, due anni fa, scusami, ci è già stato Sempre al Parco della Pace, quindi una estate ricca di appuntamenti Un servigliano da godere Ciao, grazie mille, ciao